Siamo con Marco Cassini, attore e regista Terramano, che ha deciso di dare fiducia ai giovanissimi. Un progetto ambizioso e coraggioso, ma possibile. Abbiamo appena sentito. Sì, sì, esatto. Hai detto bene. 30 bambini del nostro territorio, anche ragazzi. Riccardo, per esempio, è un bravissimo attore che abbiamo scelto per fare un ruolo molto importante. Gestiscono una fabbrica loro, per conto di Babbo Natale. Un lavoro importante. Sì, ma poi le cose sì. Faticose. Faticosissimo. Lui è uno di quelli che scioperano sempre e che non c'è voglia di lavorare. È la tua prima esperienza, immagino? Sì, diciamo sì. Ho fatto un videoclip per un cantante, però insomma, come esperienza cinematografica sì. Emozionante? Eh sì, comunque spero possa dare anche qualche sbocco per il futuro, insomma, vediamo. Quindi sogni di fare l'attore? Eh sì, un sogno nel cassetto. In bocca al lupo. E quindi abbiamo sentito che Terramo diventerà un set a cielo aperto. Quali sono, diciamo, i luoghi che avete scelto? I luoghi in cui girerete le scene del film? Ma guarda, sai cosa? Non è facile prendere dei luoghi in una città, perché c'è una burocrazia da rispettare. Ci sono dei luoghi dove devi mandare tante mail, eccetera. E il nostro comune l'ha saputo abbastanza tardi che avremmo fatto questo film qui da noi. Quindi abbiamo fatto una selezione anche in base a quello che la burocrazia non ci metteva di fronte come un problema. E quindi, però, abbiamo trovato dei posti meravigliosi. C'è il centro, il piazza Martiri, piazza Sant'Anna, la villa comunale. Quindi diciamo, i luoghi simbolo comunque. Terramo Centro sarà protagonista. Immancabili, assolutamente. Però, perdonami, anche le zone di Colleparco, di Villa Mosca, le zone delle colline, a cui noi non teniamo per niente, perché costruiamo e basta, però sono dei posti meravigliosi. Che verranno valorizzati. Hai lavorato con questi ragazzi, prima sentivamo per diverso tempo, perché comunque hai tenuto un corso di recitazione qui a Terramo, presto fare musica. È la prima volta, ho avuto comunque altre esperienze, proprio, a parte diciamo le due esperienze didattiche, proprio lavorare con i ragazzi, quindi girare un film, che è un'altra cosa rispetto all'insegnamento. È una prima assoluta. È una sfida anche per me. Però è bello accompagnare magari a dei film come Non ho niente da perdere, che è uscito in Rai la settimana scorsa, accompagnare delle esperienze come queste, perché mi permettono di crescere, mi permettono anche di capire la loro energia, che il mio obiettivo è quello magari di trasmettergli qualcosa. Se c'è Marco Cassini o non c'è, fra dieci anni, ma chi se ne frega. L'importante è che la città possa continuare a respirare con degli artisti che possano portare la nostra città in alto, perché meritiamo di stare in alto. Grazie. Bocca al lupo. Siamo con... Jacopo. Luca. E nel film? La presentosa. La presentosa. Com'è stato girare, cioè, di ritrovarvi i protagonisti di un set cinematografico? Immagino che sia la prima volta. Sì, prima volta. È stato bello, una sorpresa, una bella sorpresa. Sarà interessante vedere come andrà a finire. Beh, è stato molto bello, anche perché non ero per niente sicuro di essere preso, poi invece siamo riusciti a far filmare il film dalla scuola, quindi è un grande traguardo personale, sia personale che per la scuola, appunto. Voi siete degli allievi di Marco, avete eseguito con lui proprio un percorso formativo. Questo è il risultato di un diverso tempo di lavoro. Avete già magari delle idee per il futuro, quindi concretare diciamo quello che per adesso può essere solo una passione, magari chissà, in futuro diventare una professione. Non so se ci avete già pensato. No, idee precise, però penso che il corso sia utile per qualsiasi cosa voglio fare. Per me è un po' diverso, diciamo che vorrei proprio farlo come lavoro, anche perché Marco mi ha messo proprio questa passione, perché lui ci fa sognare e noi crediamo in lui e lui crede molto in noi. E qualche anticipazione sul film proprio. Qual è la storia e il vostro ruolo all'interno di questa storia? Diciamo subito di andarlo a vedere. Comunque un film di Natale parla dei ragazzi che gestiscono una fabbrica per conto di Babbo Natale. e producono dei, quindi, i regali. Poi succedono dei fatti, cioè Babbo Natale viene a mancare e loro devono risolvere la situazione. Il ruolo di Jacopo è un assistente della fabbrica, mentre io sono un ragazzo che purtroppo è morto durante il terremoto dell'Aquila e quindi rappresento appunto questa figura molto, diciamo, evotiva, insomma, nel film. Va bene ragazzi, allora grazie e in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Independent TV, il tuo canale di informazione.